Si è chiuso il primo e il secondo set con due tuoi punti, altra grande prestazione di esperienza, di altri campani di esperienza, come te, perché è bilato il gruppo sinistro e seconda vittoria consecutiva, tra tre punti molto importanti in questa lotta per la salvezza. Sì, sì, una partita dà un'importanza incredibile, insomma, per noi adesso sono tutte finali, che non è la verità, quindi adesso stiamo crescendo, abbiamo un giocatore che sta crescendo e sta venendo adesso che il gioco sta crescendo, insomma, siamo in una buona forma. Siamo stati bravi secondo me nel secondo set, soprattutto perché di solito quando arrivavamo punto a punto c'era sempre qualcosa che non funzionava, poi invece siamo riusciti a superare quel momento un po' di difficoltà e a chiudere poi il secondo set e poi anche la partita 3-0. Una in una vita subito così convinta delle proprie potenzialità non l'abbiamo mai vista di stare, siamo sempre in un momento molto buono due vittorie di gira e la palla a volo mostrata su Taraccio. Sì, sì, la vittoria contro Reggio ci ha dato consapevolezza, comunque abbiamo tutti le carte in regola per giocare una buona palla a volo contro il campione d'Italia, come abbiamo visto, quindi stasera è stata la conferma, abbiamo spesso un bel gioco, abbiamo Rocco che sta crescendo a pista d'occhio, quindi questo è più che positivo, perché tutta la squadra si sta comportando bene, insomma, sono più che soddisfatti. In pochi giorni sono arrivati 5 punti in classifica che mancavano da tanto tempo, ora però il prossimo turno sarà una trasversa lunga, difficile, contro Castellana Grotte, poi ci sarà il recupero contro Mondovì, tante partite una dopo l'altra, come guardi al futuro? Dobbiamo essere fiduciosi e sereni, adesso andiamo giù a Castellana, sappiamo il valore della squadra, quindi sarà dura, sarà difficile, però ormai che cambiamo da te, insomma, giochiamo contro una delle migliori, quindi abbiamo la possibilità, secondo me, di passare a casa a qualche punto. E poi abbiamo Londolini, questa sarà un'altra partita, anche più di un'importanza incredibile, noi ci penseremo in prossima settimana.